Saluto appunto Alan Friedman, collegato con noi da Lucca, giornalista, scrittore, il suo ultimo libro è 10 più due cose da sapere sull'economia italiana. Ben trovato Friedman, come sta? Eccoci, grazie molto bene, sono rientrato in Italia da pochi giorni e sono contento di essere in Italia. E' venuto giusto giusto per Natale, no? Sono qui a vedere i risultati delle elezioni europee, commentare e vedere cosa succede. Secondo me ci sarà abbastanza da commentare. Senta Friedman, partiamo dall'economia, no? In questa nostra chiacchierata. E' tornato ad affacciarsi il generale spread. Alessio, quanto è in questo momento? In questo momento il differenziale coi titoli tereschi è 278 punti base. Va bene, è un pochino più basso di come ha chiuso ieri, però diciamo sta ballando di nuovo. Su questo il vicepremier Salvini ha detto sono gli ultimi colpi di coda per intimorire. Hanno paura che l'Europa possa davvero cambiare. Lei è d'accordo con Salvini? Sì, mi senti? Sì, sì, la sentiamo benissimo Friedman. Guarda, io sono molto preoccupato delle parole irresponsabili che sono state usate da Salvini in questi giorni sulla volontà del governo italiano di violare le regole europee sia sul deficit sia sul debito pubblico. Credo che sono irresponsabili perché se un ministro di governo o un vicepremier parla così, rischia di infiammare il sentimento contro l'Italia e di creare un boomerang. Un'altra parola, se tu dici ai mercati, agli investitori che devono prestarti i soldi e comprare obbligazioni italiane, io forse mi faccio ancora debito di 140%, me ne frego di tutto, è come una bandiera rosso davanti a un toro, è un modo di quasi dire venite a attaccarmi. Quindi molto sfortunati queste parole. Poi la Banca d'Italia e il governatore Visco mi pare hanno spiegato bene che a questo bisogna stare molto caldo. Poi siamo arrivati, sono stato in America, sono rientrato in Italia, ho visto dopo la cosa di Salvini che ha fatto salire lo spread, che ricordo a tutti si paga lo spread, i contribuenti, nel senso che lo spread vuol dire che il tasso di interesse sale su quello che il governo italiano deve pagare sul sul debito e questi interessi sono pagati dai contribuenti e valgono qualche miliardo all'anno, due o tre miliardi all'anno a questi livelli di 2,70, 2,80, 2,90. E questo vuol dire che alla fine le parole di un leader italiano fanno pagare ai contribuenti diversi miliardi una mini finanziaria per le sue parole. Questo è un boomerang molto lesivo dell'Italia. C'è un dato sicuramente economico, le parole pesano, Draghi lo ha detto anche qualche mese fa, attenzione alle parole perché le parole poi hanno una portata economica, c'è sicuramente il dato economico, poi c'è il dato politico, siamo in piena, pienissima campagna elettorale e quindi i leader quando si esprimono lo fanno guardando al loro elettorato e poi c'è la battaglia all'interno del governo, che anche quello è tutta politica e tutta di posizionamento e però anche quella ha un peso. Ora, mentre Salvini diceva appunto dobbiamo sforare il 3% e il spread si impennava, Tria diceva, beh insomma, Tria che ricordo il ministro dell'economia diceva, beh quello che è scritto nel DEF andrà rispettato, punto e basta. Io le chiedo se è vero che in una dinamica governativa abbiamo già assistito, non è un inedito, allo scontro tra il ministro dell'economia e per esempio i premier, al ministro dell'economia e altri ministri, ma c'è qualcosa di nuovo? Cioè gli scontri che stiamo vedendo in questo governo sono normale amministrazione? Oppure c'è un dato politico diverso dal suo punto di vista? Lei che è brava ad esercitarsi con la memoria, ci aiuti a ricordare? Io ho cominciato da giovani a seguire l'Italia come corrispondente del Financial Times a Milano e a Roma e ricordo il pento partito dagli anni 80, ricordo le coalizioni di governo dove si trattava sempre, si faceva sempre cambio su diverse politiche, ma alla fine facevano le politiche concordati. Qui abbiamo una strana mostra con due teste, questo governo, che veramente sembra schizofrenico, c'è un ultradestra, c'è una destra estrema, destra sociale contro aborto, destra sociale contro gli dritti delle donne, una destra antimigrante etnopopulista da un lato e c'è un gruppo di neofiti, chiamiamoli anti-establishment, un po' confusionario che non si capisce se sono pesce o carne nel Cinque Stelle. Quindi Lega e Cinque Stelle sono due oggetti molto strani. La perversa realtà sembra che sono condannati a governare insieme in questo momento. In assenza delle alternative, no? Ma nel senso che il PD potrebbe arrivare a 22%, e Berlusconi forse a 9% o 10%, ma alla fine o è Salvini e Di Maio insieme, o sarà Salvini con Meloni insieme. Ma mi pare che in questo momento Salvini sta perdendo quota e immagino che non avrà 32% o 35% di risultato a fine maggio perché non ci sono sondaggi, ma se tu hai un scandalo di procurazione con Armando Siri, un scandalo che riguarda il sindaco di Legnano, un scandalo che riguarda 49 milioni di euro, un scandalo che riguarda gli aerei, cioè sono tante le accuse, è un po' un mini Trump, nel senso che ci sono tante accuse. E quindi io credo che Salvini in questo momento politicamente si trovi in pantano, in un po' in pantanato. E in queste circostanze la cosa migliore quando sei in un pantano è di non spostarsi, non cercare di muoversi. Invece lui sta correndo, quindi non so. Credo che è un momento di politica e campagna elettorale brutta per l'Italia. Temo per l'economia e spero che dopo il voto ci sarà chiarezza, ma temo che dopo il voto ci può essere la stessa cosa e nessuna chiarezza. Cioè che continuiamo così per quattro anni, la prego Friedman non mi dia questa notizia, Ergen, mi licenzio subito. Cioè è troppo faticoso così, non si può fare. Posso spiegarmi meglio in due parole, Tiziana? Certo. Se Salvini non avessi questi problemi di diversi indagini della magistratura o se non fossi in qualche modo forse esagerato, perché sembra un po' esagerato in questo momento, in difficoltà politicamente, è come Alessandro Di Angelus ha scritto nel Huffington Post, porre il guancia un po' perché è anche intelligente, non vale la pena per lui di attaccare ancora. Ma in queste circostanze, se lui ottenessi il 35-40% del voto, certo sarà un plebescito. Ma se invece Di Maio arriva al 25-26% e forse Salvini scivola al 27-28%, loro due saranno condannati a governare insieme al tuo convolto. No, 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 mi è chiaro, mi è chiaro. Diciamo che per fortuna Friedman il 26 maggio è qui che arriva, dobbiamo ancora avere una settimana intensa di campagna elettorale, dieci giorni di campagna elettorale, e poi andiamo a vedere che cosa succede e cosa succede nel post-voto, no? Anche cosa il governo può fare o non può fare, regge o non regge. Nel frattempo, lei giustamente diceva un momento particolare per Salvini, adesso Repubblica ha parlato del ministro Volante, c'è tutta la questione degli aerei, questi che sono chiamati le Ferrari del cielo, no? Gli aerei della polizia che lui avrebbe usato mettendo insieme iniziative pubbliche e questioni legate alla campagna elettorale. Allora c'è tutta un'accusa in questo senso, la Corte dei Conti ha aperto un'inchiesta esplorativa, ma è evidente che questi voti e questi voli lui li ha presi, diciamo, lecitamente, quindi il dubbio è se è un po'... Quanto è furbo Salvini? Ecco, quanto li ha usati anche con un criterio largo, mettiamola così. Che idea si è fatto lei, Friedman? Stiamo discutendo di una cosa importante o stiamo discutendo di una sciocchezza? Non credo che le aerei di Salvini siano un punto centrale. Credo che il fatto che Salvini sta seminando odio e sta spesso incitando razzismo nelle sue declarazioni pubbliche così estremiste, così di destra estrema. Questo sia forse più il caso. Credo che sia più importante renderci conto che quando Luigi Di Maio critica Salvini per le sue parole irresponsabili sullo spread e sul debito, quando Di Maio sembra la voce della ragione, sai che sei nel guai. Il moderato Di Maio. Quando Di Maio sembra la voce più moderata, più intelligente, più ragionevole di tutti, sai c'è qualcosa che è andato storto. Lei dice, va bene. Senta, Friedman, ha seguito invece tutta la vicenda degli striscioni, sempre a proposito di Salvini. Mi piace sentire che cosa ne pensa e poi io ne faccio preparare uno di striscione. Quello mi preoccupa. Che tipo di sentimento racconta nel paese? Lì ricordi che io vengo dall'America di Trump, dove Trump sta cercando di usare la propaganda, il fake news, la televisione e il social media per veramente esitare le voci dell'opposizione in America negli attacchi contro la stampa quotidiani. Qui in Italia mi preoccupa gli striscioni perché l'Italia che io conosco, rispetto e amo, non è un paese dove non c'è libertà di espressione. E mi sembra che se si toglie le striscioni che sono parole messe sulle proprietà private di qualcuno e se questo diventa un reatto, si rischia di non essere più una democrazia. È una limitazione sulla libertà di espressione garantita dalla vostra Costituzione, ma... Ricordiamo che il ministro Salvini ha detto non ho mai dato quell'ordine di rimuovere, per me possono mettere tutti gli striscioni che vogliono. Ma allora, quello che non capisco, scusami, chiamami un turista per caso, ma quello che non capisco, essendo tornato in pochi giorni in Italia, e come mai ci sono tre o quattro episodi in Italia, da Salerno a qui a là, dove hanno tolto i striscioni di chi ha criticato Salvini. La polizia lo fa per simpatia con Salvini? Cioè, mi sembra strano e non mi sembra democratico. Sì, poi la reazione è stata che alla fine c'è stata una fioritura, no? Dei striscioni, perché poi quello è un boomerang, ovviamente. Ne toglie uno, ne compaiono 105, no? Magari invece prima era solo uno. Il che ci racconta poi anche perché alcuni sono irresistibili dell'ironia degli italiani, mettiamola così, perché davvero alcuni sono molto divertenti da leggere. E a questo proposito, Friedman, facciamo finta che ce ne sia uno bianco. Scriva lei un messaggio per Salvini. Un messaggio per Salvini? Faccio il suo striscione. Sul mio striscione? È un gag interessante. Se cado in questa trappola, poi Friedman l'avrò scritto. Non ho saputo, non è di prima. Non era una trappola, lo giuro, non era una trappola. Ripassiamo un attimo dalla questione morale, no? In questo paese ogni tanto ritorna il tema delle mazzette, ritorna il tema delle inchieste. E c'è subito chi si affretta a dire siamo in una nuova tangentopoli. In questo caso lo ha detto più volte di mai. O Salvini ha detto non è vero, mi fido dei miei uomini, e comunque mi fido anche della magistratura, vediamo che succede. Io le chiedo, è un problema? Gli italiani hanno nel loro DNA questo destino? Allora, ti parlo molto sinceramente. Il mondo è un paese. La corruzione esiste in tutto il mondo, ok? Esiste anche negli Stati Uniti d'America. Negli Stati Uniti d'America, quando un membro, un ministro del governo Trump era fino a ieri mattina il vicepresidente della Boeing, l'azienda che ha lasciato morire tante persone recentemente con la Boeing 737, e lui è il ministro di difesa. C'è un conflitto di interesse, è molto. Comprono da Boeing e quindi la gente rischia di morire. È molto grave in America quello. In Italia esiste il problema della corruzione, ma sembra sempre più piccolo. Cioè l'accusa sarebbe che Armando Siri ha intescato 30.000 euro da questo signore Arata che era legato con un testo di legno per la cosa nostra in qualche modo, se ho capito bene la storia lì. E quindi sono sempre più piccoli, ma la corruzione rimane un problema. Poi, che la magistratura, prima di elezione in Italia, tira fuori due o tre casi di accusa di tangenti, nella mia esperienza, è normale. che sia magistratura di destra o di sinistra, spesso si vede la magistratura che fa qualche accuso, lascia trappellare qualcosa qualche settimana prima di un voto. Sì, c'è da dire che noi siamo sempre in campagna elettorale, quindi a voler scegliere il momento per i magistrati facile, non deve essere, Friedman. Perché ad esempio adesso saranno dieci mesi che siamo in campagna elettorale, quindi qualunque momento sarebbe stato un momento delicato per il Paese. E voglio passare all'opposizione. Nicola Zingaretti, il segretario del Partito Democratico, ha dichiarato noi vogliamo risolvere i problemi. Loro, dove loro sono Salvini e Di Maio, li creano. La mia domanda è, ma lei ha capito in che modo il centrosinistra vuole risolvere i problemi? No, io credo che Zingaretti sembra una persona per bene, simpatico, onesto, decente. Non mi sembra molto carismatico, non mi sembra un grande leader, ma sicuramente ben intenzionato e buono per certi versi. Non dice sciocchezza, dice cose sensate. Credo che l'ombra di Matteo Renzi c'è ancora sul PD. Credo che D'Alema c'è ancora lì da qualche parte urlando nel buio e cercando di fare problemi alla sinistra del PD perché quelli non si rendono mai, sono come i giapponesi nella giungla quelli come D'Alema. E quindi credo che il PD non può essere una forza molto importante in queste prossime elezioni nel breve termine. Deve ricostruirsi, deve trovare un nuovo leader, deve trovare un modo di essere sensibile a quello che le famiglie e la società richiede in termini di aspetto sociale, ma anche un po' più pragmatico. Cioè Friedman, se fossimo a scuola, che voto darebbe a Zingaretti e più in generale al PD? Un 6 di incoraggiamento, che voto gli dà? C'è anche un 6,5 o 7, sì. E allora è simpatia questa, Friedman. È più che incoraggiamento, diciamo. Non vedo un grande PD, non vedo una sinistra che importa. Credo che il punto qui, veramente, che Italia, da un lato, non è un paese di estremismo. Gli italiani sono moderati. Quindi mi chiedo, per quanto tempo ci sarà sugli schermi televisivi dei TG, Casa Pound, Forza Nuova, in sempatia con un ministro di interno. Cioè, c'è libri scandalosi a Torino che sono pubblicati da editori vicino a Casa Pound. Questo non è l'Italia che io conosco. Questo è un posto più estremista. Io voglio indietro l'Italia, moderato, dove c'è il valore di toleranza, dove la gente è brava, dove la gente è buona. Io non voglio un paese di odio. Questo sto dicendo. Grazie a Friedman per il momento. Per il momento, per il momento,